Una location unica, quella dell'Ecole dell'Alcantara, per raccontare una storia unica. Inferno di Dante, rivisitato, sono notti di grandi emozioni qua all'Ecole dell'Alcantara e cresce l'offerta turistica siciliana attorno a tantissime presenze straniere. Servono poche parole per commentare quella che è un'iniziativa tanto attesa e che sono convinto, dopo i successi di queste sere, costruirà uno dei punti di forza dell'offerta turistica siciliana in estate per i prossimi anni.